Lo sapevi che esistono ben quattro versioni dell'urlo di Munch? La prima risale al 1893 e non era altro che una bozza di quella che poi sarebbe divenuta la versione definitiva La seconda è quella versione che conosciamo tutti quanti La terza è l'unica che è stata messa all'asta e venduta poi per un prezzo di 119 milioni di dollari Ed è anche l'unica versione che presenta le figure appoggiate al ponte Mentre la quarta si trova attualmente al museo Munch Se sei interessato comunque al mondo dell'arte o comunque a questa opera in maniera specifica Ti consiglio di guardare il mio video completo su YouTube Ciao!